L'obiettivo è quello di concludere i lavori entro massimo tre anni, al termine dei quali vedrà la luce la pedemontana Veneta. 95 chilometri, 35 comuni attraversati da Montecchio Maggiore nel Vicentino, Aspresiano nel Trevigiano e i 16 caselli sono solo alcuni dei numeri di quella che sarà l'unica superstrada a pedaggio del nostro paese. I lavori però procedono a rilento e a quello che è oggi il più grande cantiere infrastrutturale d'Italia si aggiungono anche polemiche dal punto di vista finanziario. Un miliardo di euro la cifra prevista inizialmente, che oggi però è salita ad oltre due miliardi, sollevando non pochi dubbi sulla finanziabilità dell'opera. A fare il punto della situazione, il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite della puntata di Primus Interpares, a lui dedicata. I costi ci sono lievitati proprio per le osservazioni fatte dal mondo ambientalista, dai comuni. Questa qui che doveva essere una strada, un astro asfalto sul piano campagna, per il 70% è diventata una strada in trincea. Cioè si scava in modo tale che non si veda, perché l'impatto visivo era una delle richieste dei comuni. Oggi si fa polemica sui 64 milioni di ghiaia che viene scavata, che doveva essere un business non è un business. Non è che era un business non è un business. Se i sindaci dicono vogliamo che non si veda nel mio tratto comunale, ci sono dei problemi perché il closing finanziario, cioè l'azienda che c'è dentro, deve portare il suo finanziamento che è di un miliardo e sei. Ci sono tutta una serie di attività che si stanno facendo per tentare di sbloccare quest'opera e dare via, ma non sbloccare il cantiere, di fare in modo che arrivi questa dotazione finanziaria in maniera tale che ci sia la tranquillità fino alla fine.